Musica E ciao a tutti ragazzi del JDF Clan Io sono JDF Milan E oggi ragazzi sono qui tornato sul canale del clan A portarvi il secondo gameplay della nostra Record Week E oggi ragazzi come secondo gameplay Ce lo porta JDF Atomico Che ci porta una 71 second camstrek Effettuata in uccisione confermata In solo Ed è appunto la camstrek più veloce al mondo Effettuata su uccisione confermata in solo E ragazzi pensate che Atomico ha avuto molta fortuna Visto che il record precedente È stato effettuato dai ruin in 72 secondi E Atomico appunto di un solo secondo È riuscito a giudicarsi il record Ecco Comunque il gameplay è stato effettuato su Strikezone E appunto l'arma in questione era uno dei badger E appunto Perk e accessori chiedeteli sotto nei commenti Che Atomico vi risponderà Comunque ragazzi Il gameplay visto che è veramente molto veloce Vi volevo soltanto chiedere come vi stanno andando le vacanze Visto che Io sono ancora qui a patire il caldo in casa Visto che partirò ad agosto E appunto Ho ancora qualche settimana davanti Prima di partire E vi volevo appunto chiedere come vi stanno andando a voi le vacanze E nulla ecco Quindi ragazzi mi raccomando Passate da tutti i link in descrizione Io vi saluto raga Ci si becca a un prossimo video Bello Non ti piacciono i gtf Figa Ammazzati Figa sparati Quando arrivo devi farmi passare Figa